Rivolgo un saluto di pace e bene a tutti voi, cari Delegate dell'International Christian Maritime Association. Vi siete riuniti a Kua Shun, Taiwan, per l'undicesima conferenza mondiale, nella quale ricordate il cinquantesimo anniversario di fondazione della vostra benemerita associazione. Questa ricorrenza mi offre l'opportunità di esortarvi a continuare con rinnovato spirito ecumenico il vostro servizio alla gente del mare. In questi giorni di incontri e di riflessione, vi auguro di individuare forme sempre più efficaci di assistenza ai marittimi, ai pescatori e alle loro famiglie. E' ancora carica di attualità la lettera apostolica Stella Maris del 1997, con la quale San Giovanni Paolo II delineava le linee fondamentali per la cura pastorale delle tante persone che lavorano sul mare e dei loro familiari, come pure di quanti viaggiano per mare. In quel documento, il mio predecessore invitava ad adoperarsi affinché la gente del mare abbia abbondantemente i mezzi necessari per condurre una vita santa. Questo invito lo rinnovo anch'io a tutti voi che rappresentate diverse tradizioni cristiane. Possiate aiutare la gente di mare? Grazie. 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 Grazie.